Sono le 22.47 in questo momento si conclude con l'arrivo allo Stadio Binanti la nostra trasferta l'ultima trasferta della stagione e anche per me che vi ho accompagnato per tutto l'anno in questa meravigliosa avventura si conclude questa straordinaria stagione che era iniziata quest'estate con tanti buoni propositi e tanti sacrifici. Volevo ringraziare innanzitutto la famiglia Gallo con Rosario, con Salvatore che in questo momento mi sta guardando e volevo ringraziarli per avermi dato ancora una volta la possibilità e l'opportunità di poter tenere alti i colori rosso-azzurri. Voglio ringraziare di cuore questi ragazzi che sono stati davvero straordinari, meravigliosi, unici con cui vale la pena vivere non solo in campo ma anche fuori dal campo davvero. Vorrei nominarli uno per uno, saluto ancora Salvatore Gallo, saluto anche Mario Santoro. Volevo nominarli uno per uno i giocatori di quest'anno perché davvero nel calcio oltre a essere giocatori bisogna essere anche uomini e loro lo sono stati davvero. ragazzi straordinari, meravigliosi, che va davvero il mio grazie perché mi hanno aiutato a crescere anche dal punto di vista professionale. Voglio ringraziare Andrea Pensabene, un allenatore che era rimasto fuori un po' dall'ambiente per motivi personali e che adesso è rientrato davvero alla grande, meraviglioso il suo impegno e soprattutto la sua professionalità, davvero unici. Un allenatore che potrebbe veramente insegnare a tanti a fare il calcio. Ringrazio Gaetano Greco, il suo allenatore in seconda. Ringrazio Daniele Trombino, l'allenatore dei portieri. Ringrazio Stefano Puglisi, il nostro fisioterapista, massaggiatore. Persone davvero straordinarie, educate. Mai uno screzio, mai una discussione all'interno di un gruppo. E poi voglio ringraziare uno per uno tutti coloro che abbiamo insieme sostenuto questi ragazzi. Dario Antonucci, il vicepresidente Luciano Buonapasqua. Ringrazio di cuore ovviamente con tutto me stesso, la famiglia Zumbo, Carmelo Zumbo, Salvo Zumbo. Ho paura di dimenticare tante persone, però mi sovvengono in questo momento tanti pensieri. Salvo Cannizzaro, ringrazio i fratelli Scionti. Tutte persone che ogni domenica davvero hanno dato tanto. Io non me la sento di dire altro perché rischierei davvero di cadere un po' nella retorica. Però volevo chiudere questa stagione con un'immagine. Vediamo se ci riesco. Emblematica, emblematica il nostro magazziniere, l'ultimo ad uscire dal campo, Thomas Gugliara. E questo è quello che rimane di una trasferta. Questo è quello che rimane di una trasferta. Quello che rimane di una stagione. Vi faccio vedere anche una foto. Quello che rimane di tanti sacrifici. Il calcio non è fatto solo di belle parole, ma è fatto anche di storie emozionanti da poter raccontare. E quella di quest'anno, credetemi, è stata davvero una stagione emozionante. So che ho dimenticato sicuramente qualcuno nei miei ringraziamenti, ma non posso non ricordare una persona che quest'anno è stata davvero straordinaria. Una persona che non riesco a capire cosa ci fa nei campionati di eccellenza. Parlo di Vittorio Strianese, un direttore sportivo unico. Una persona che quest'anno ha dimostrato davvero di essere uno dei migliori della categoria perché è riuscito a portare a Scordia non solo giocatori, ma soprattutto uomini. Il calcio mi appassiona. Voi lo sapete, ormai mi seguite. Oggi sto parlando dalle pagine di Scordia Calcio, quasi appropriandomi di questo canale. Ma ci tengo, dopo tanti anni di esperienza, davvero a ringraziare questa società perché mi ha dato la possibilità di vivere il calcio ai livelli alti come mi piacerebbe sicuramente viverlo ogni giorno, però questi colori mi hanno dato davvero tante emozioni. Alle 22.52 vi saluto e vi ringrazio. Quello che dentro il mio cuore ovviamente mi auguro è che l'anno prossimo, sempre con la guida del nostro caro presidente Rosario Gallo, della famiglia Gallo, di Marco Falconeri, di Salvatore Licalzi, insomma mi vengono in mente tante persone, si possa continuare a fare calcio a Scordia. E naturalmente un ringraziamento speciale a quei tifosi che oggi uno per uno li potrei nominare, ma sono davvero tanti. si sono fatti tutti questi chilometri, tutti questi chilometri e sono tanti davvero, per sostenerci e starci accanto. Grazie ancora, buonanotte.